Filmo. Se stai larga, comunque, non dico qualcosa. Tanto te non zucchi. Si va abbastanza bene. Gira bene la testa. E comunque fa tre piani. Una cosa bella fugge, ma arriva al primo piano, che non ha molto senso. Dovete andare piano. Vai Dom, dai la mano. Ti guardate pure questo. Ha fatto bene a fare questi pezzi rifatti in legno. Domino, sai che con il fiore non mi piace più? Mamma, va più lungo, non c'è più bene. Ma, è finita, va più? Un po' un po'. Ehi mamma. Ah, ci sono. Oh, mamma. Scusa, non l'ho capito, è che è di corsa. Oh Dio. Ma sai, con le gonne che avevano di corsa. Ma con le gonne, che ne era meglio bisogno? Qua c'erano solo, lei avevano l'armatura. Della soldataglia. Oh, pure è lungo. È lungo. Sì, è lunghissima. Eccolo, è finita. Eccolo, è finita. C'è una risera? Ma non ti la la. Eh, non va. Ma non ti la la. Sì, è finita. Ce l'abbiamo fatta. Sali qua.